Ben trovati. Allora, se non credete che tra un uomo e una donna ci possa essere un rapporto platonico che duri negli anni, ascoltate la storia che vi racconto oggi. Oggi vi racconto della storia fra Piotr Tchaikovsky, il più grande compositore russo dell'Ottocento, a mio modesto parere, e sicuramente uno dei più grandi compositori della storia della musica, e di Natasha von Meck, la sua mecenate. Allora, di Tchaikovsky sappiamo praticamente tutto, perché è un compositore di fama talmente ampia, insomma, che di tutto si è studiato su di lui, e quasi tutto si sa di lui, non ancora tutto, tutto. Si sa invece, almeno il grande pubblico, conosce un po' meno la storia di Natasha von Meck, ed è da lei che parto oggi. Natasha von Meck è una donna russa, sposata a un barone tedesco, che però, nonostante la baronia, attraversa momenti di difficoltà economica anche importante. Dopodiché il marito ottiene una concessione molto vantaggiosa, che li fa diventare enormemente ricchi. A 46 anni però il barone muore di infarto, la moglie ne ha 45, hanno messo al mondo 18 figli, di cui 16 diventati grandi, e la baronessa von Meck si trova quindi a dover gestire un enorme patrimonio, abbastanza congru da poter sopperire a tutte le necessità sue e dei suoi 16 figli, e in più con la possibilità di dedicarsi alla sua passione principale, cioè la musica. Come tante nobile donne e donne della borghesia dell'epoca è appassionata di musica, è una buona pianista dilettante, si circonda di musicisti, e un giorno rimane folgorata all'ascolto della musica di Tchaikovsky. Ecco quindi che gli scrive e gli offre diventare la sua mecenate. Allora questa cosa ai tempi era abbastanza frequente, soprattutto tra l'aristocrazia russa, ma europea in generale. E se vogliamo per certi versi è qualcosa che possiamo paragonare con quello che succede oggi, con gli solisti, i direttori, i cantanti, gli artisti, eccetera, eccetera, che hanno alle spalle, diciamo così, un grosso sponsor. La differenza sta nel fatto che oggi questa cosa è vista molto male, ovvero sia se io sono figlio di un grosso industriale e casualmente l'azienda di mio padre sponsorizza i teatri in cui io lavoro, questa cosa viene vista molto 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 male, perché si dirà ecco è un raccomandato, ha fatto quello che ha fatto solo perché aveva i soldi, se non essi avuti i soldi non sarebbe mai arrivato, vi è arrivato, eccetera, eccetera. Nell'Ottocento invece questa cosa era vista assolutamente come una pratica normale, anzi veniva visto come un bellissimo gesto da parte di una persona che non aveva problemi economici, il mantenere uno o più musicisti. Tchaikovsky in particolare, che insomma aveva le mani abbastanza bucate, quindi era pieno di debiti, aveva un lavoro al conservatorio che però non gli piaceva per niente, aveva studiato anche l'università ma non aveva voluto intraprendere la carriera che avevano pensato per lui e i suoi genitori, ovviamente gli cade questa fortuna davanti ai piedi e giustamente la raccoglie, insomma come credo avrebbe fatto chiunque. Quindi Natasha Fomek per 14 anni dà a Tchaikovsky una congrua cifra annuale che gli permette di vivere tranquillamente anche in maniera abbastanza agiata senza aver bisogno di fare altri lavori e in più interverrà diverse volte nella vita di Tchaikovsky con degli interventi extra per tamponare varie situazioni o con dei regali extra di natura economica. Tutte queste dinamiche le conosciamo molto nel dettaglio perché ce le hanno dette, sapete chi? Tchaikovsky la Fomek in prima persona perché in 14 anni non si sono mai incontrati ma si sono scritti migliaia e migliaia di lettere. Aggiungiamo poi che Tchaikovsky era un grafomane al limite quasi dell'ossessivo, scriveva 3-4 lettere al giorno, praticamente esattamente come noi oggi passiamo la giornata con questo attrezzo scambiando e rispondendo messaggi immediatamente alle persone che ci scrivono, lui tutte le sere dedicava la sera a scrivere le lettere in risposta alle tantissime persone con cui aveva una corrispondenza. Questa cosa ha fatto sì che noi di Tchaikovsky abbiamo migliaia e migliaia di letteri, in realtà non se ne sa precisamente neanche il numero. Si parla sicuramente di oltre 10.000 lettere ma secondo altre fonti ci sarebbero tutta una parte di lettere non ancora rese pubbliche che porterebbe il totale delle lettere scritte da Tchaikovsky a oltre 20.000. E meno male perché questa è la maniera principale che ci permette di sapere, di avere notizie di una personalità così importante come quella di Tchaikovsky. Allora l'omosessualità di Tchaikovsky oggi è un dato accertato storicamente e non fosse altro per il fatto che Tchaikovsky stesso ne parla nelle sue lettere, ne parla in tante occasioni. Ovviamente ai tempi la situazione era un pochettino più delicata. L'omosessualità nella Russia degli zar formalmente era ancora considerato un reato e se si veniva condannati, se veniva spediti in Siberia, si perdevano i diritti civili, quindi era condannata e perseguita in maniera molto dura. In realtà poi questa era più una cosa di facciata perché essendo l'omosessualità molto diffusa anche alla corte dello zar tutto sommato si tendeva a chiudere un occhio. Non solo, c'era situazioni come quella del fratello di Tchaikovsky, Modest Tchaikovsky, anche gli omosessuali, che per 16 anni ha vissuto con il suo partner in maniera abbastanza palese e senza nascondersi e senza nessun tipo di problema. Piotr Tchaikovsky invece, probabilmente anche a causa di un suo carattere più chiuso, forse più depresso, viveva questa situazione sicuramente con maggior disagio. Disagio che lo portava un po' a vergognarsi, un po' a nascondersi, un po' ad ammettere, un po' a negare, insomma, al netto del fatto che comunque per quanto potesse essere tollerata, tollerata è una cosa e accettata è ben altra cosa. E quindi si potesse tollerare l'omosessualità è una cosa, ma dire che gli omosessuali vivessero tranquillamente, senza problemi, credo che sia storicamente falso. E quindi Tchaikovsky, vivendo con grande dissidio questa sua condizione, e nonostante i molti partner che cambia, e ce lo racconta lui stesso nelle sue lettere, arriva a un certo punto in cui si sente obbligato a sposarsi per convenzioni sociali, perché dice ma non vorrei che la mia famiglia fosse colpita da pettegolezzi, eccetera, eccetera, per cui a 36 anni, che per i tempi erano un'età decisamente avanzata per sposarsi, decide di sposarsi con una sua ex allieva più giovane. Neanche a dirlo, il matrimonio è un fallimento clamoroso, è peggiore la situazione, dura pochi mesi, Tchaikovsky praticamente scappa, in realtà lui e la moglie non divorzieranno mai, e resteranno sempre in questa situazione di separazione. La Natasha von Meck interverrà anche in questa situazione, dando una somma di denaro alla moglie di Tchaikovsky, poi avrà anche problemi mentali, finirà in manicomio, insomma, quindi una situazione abbastanza triste. Natasha von Meck sicuramente aveva un grosso sentimento nei confronti di Tchaikovsky, che travalicava probabilmente la stima per l'artista e per il compositore, e probabilmente il fatto che si fosse sposato anche in maniera subitanea, assolutamente repentinea, in qualche maniera forse l'aveva ferita, perché comunque lei era maggiore, aveva nove anni, nove anni in più, però era comunque vedova, insomma, quindi teoricamente si sarebbe potuto pensare a una loro relazione, cosa che in realtà non avvenne mai, e che anzi tutte e due, e Tchaikovsky in primis cercarono sempre di evitare ogni contatto fisico, infatti appunto non si incontrarono mai, proprio per evitare, come dire, di cadere in tentazione. Addirittura a volte si organizzavano per visitare lo stesso posto, ma a distanza di tempo, magari due ore l'uno dall'altro, per cui, come dire, avevano la stessa sensazione, vedevano le stesse cose, ma a distanza di due ore per non incontrarsi. E a volte, un paio di volte è successo invece, che si siano appena appena incrociati o sfiorati. Se appunto vogliamo sostenere la questione dell'amore platonico, quale migliore dimostrazione di questa? Dopo la fine del matrimonio, Tchaikovsky ovviamente ha il terrore che la moglie possa svelare il suo terribile segreto alla sua mecenate. Apparentemente questa cosa non succederà. Il rapporto epistolare e platonico tra Natascia e Piotr continua, quindi? Però capiamoci, il rapporto platonico sì, non si incontrano mai, questo appare storicamente accertato, ma se leggiamo lettere vediamo una grande intimità, una grande confidenza. Un qualcosa che, forse più da parte di Natascia che non da parte di Piotr, sembra travalicare semplicemente appunto un rapporto che dovrebbe essere esclusivamente, esquisitamente epistolare e platonico. Probabilmente il sentimento c'è, però sta di fatto che questo sentimento, ove vi sia stato, non sfocerà mai in alcun contatto fisico. Dopo tanti anni, dopo 14 anni di questo lungo rapporto che ci ha dato migliaia e migliaia di lettere scritte sia da Piotr che da Natascia, lei improvvisamente chiude tutti i rapporti, gli scrive un'ultima lettera in cui gli dice praticamente che ha dei problemi economici e che quindi non può più permettersi di mantenerlo e quindi gli dice addio fondamentalmente. A parte che storicamente non è mai stato accertato che la Fomec avesse un vero problema economico, in ogni caso avrebbe potuto essere, avere il problema economico, non essere più la sua mecenate, ma restare comunque amici, avrebbe potuto continuare a scriversi, avrebbe potuto continuare ad avere un rapporto di amicizia o di amore platonico o quello che volete. Invece lei da un giorno all'altro interrompe ogni contatto. La ragione non la sappiamo, se dovessimo scommettere qualcosa è probabile che le siano giunte voci dell'omosessualità di Piotr. E volendo fare della psicologia veramente spicciola, secondo me la delusione che può aver provato Natascia non è tanto per l'omosessualità di Piotr quanto per il fatto che lui a lei non l'ha mai detto. E quindi se dovessi scommettere qualcosa facendo veramente nella psicologia spicciola, credo che sia questa la ragione per cui lei è sentita, tradita nei suoi sentimenti, nella sua amicizia, nella sua rapporto con lui. Da di fatto che la fine del rapporto con Natascia getta Tchaikovsky in un stato di profonda depressione oltre che in problemi economici di non poca rilevanza. In più aggiungiamo a questo che la sua sesta sinfonia, tra l'altro una delle più belle che abbia scritto, è un fiasco clamoroso e quindi insomma questa cosa acuisce alcuni aspetti del suo carattere particolarmente vicini a quella che oggi chiameremo depressione. E quindi Tchaikovsky muore a soli 53 anni. La causa della morte non ci è ancora chiara. La causa ufficiale è colera. Nel 1893 c'è un'epidemia di colera in Russia e quindi lui potrebbe essere stato uno delle vittime di questa epidemia. Sta di fatto che le modalità con cui questa presunta malattia di colera si manifesta in lui siano insolite. Allora è storicamente accertato che lui una sera a una cena a un ristorante volle bere dell'acqua che non era stata bollita. Perfettamente consapevole del fatto che c'era il rischio che fosse contaminata e che quindi questa cosa avrebbe potuto fargli contrarre il colera. Quindi qualcuno ha voluto vedere addirittura in questo gesto un suicidio o qualcosa del genere. Sta di fatto che lui beve quest'acqua il primo di novembre e il 4 di novembre è morto. In quattro giorni generalmente la malattia non ha un decorso così veloce non porta dalla contrazione alla morte in così pochi giorni. In più c'è un'altra questione molto strana che quando Cekoski muore la sua salma viene composta nella casa e tutti i parenti gli amici gli emiratori vanno a rendere omaggio alla salma. Questo senza che sia stata presa alcun tipo di precauzione contro il colera ovvero sia tutti quelli che morivano di colera A venivano messi in una barra chiusa e B veniva completamente disinfettata in maniera molto forte la stanza o comunque gli ambienti in cui queste persone venivano soggiornato. Queste due cose con Cekoski non avvengono e questo avvalorerebbe l'ipotesi di un medico dell'epoca che disse che in realtà Cekoski si era avvelenato. Però se la causa ufficiale era il colera e non un suo presunto avvelenamento un suo presunto suicidio perché le autorità non hanno disinfettato la camera e non l'hanno messo in una barra chiusa se la causa ufficiale era il colera? Anche qui non abbiamo una risposta però abbiamo delle ipotesi. Nell'anno della morte Lucas Tenbok Fermor scrive una lettera allo zar Alessandro III in cui non solo accusa Cekoski di omosessualità questa cosa più o meno ripeto nell'ambiente era abbastanza risaputa ma la cosa grave è che dice il duca Cekoski avrebbe fatto delle avance nei confronti di un nipote del duca e come dire questa cosa avvalorerebbe l'ipotesi che Cekoski si fosse fatto dei nemici potenti e che quindi il suo potrebbe essere stato anche un omicidio addirittura forse lo zar non ha voluto punirlo e il duca ha deciso di farsi giustizia da solo non lo sappiamo siamo veramente nell'ambito delle congetture l'unica cosa che sappiamo è che il colera cioè la causa ufficiale della morte Cekoski non agisce nei tempi in cui avrebbe agito con lui colera che tra l'altro aveva già ucciso la madre di Cekoski quando Cekoski aveva solo 14 anni per cui chi vuole vederci dietro un collegamento un destino o un qualcosa di psicologico avrà campo libero sta di fatto che Cekoski muore a 53 anni e la sua mecenate amica Natasha von Meck si amare di tubercolosi e muore solamente due mesi dopo spero che la puntata vi sia interessata se volete iscrivetevi al canale e se volete ci vediamo alla prossima puntata